Mostrerò ora una best practice legata a un tipico problema che molte organizzazioni hanno che è quello di gestire dei contatti legati a delle fiere quindi potenziali clienti che ho raccolto durante un evento fieristico durante un evento in piazza magari in cui ho incaricato una promoter ci sono tutta una serie di lead prospect o una serie di interlocutori che lasciano un biglietto da vista o dei quali raccolgo delle informazioni che poi vanno gestite il problema più grande è che ci troviamo spesso una settimana dopo aver fatto questo tipo di evento con i contatti ancora da gestire cioè non ha mandato loro un ringraziamento non li ha inseriti all'interno del database CRM non ha fatto alcun tipo di azione se non perché il commerciale magari si è ricordato che quei due tre quattro sono i più importanti e inizia a gestire lui senza fare alcun tipo di tracciabilità oggi vi mostro una best practice con 2 app applicabile da subito che potete fare direttamente con il vostro smartphone in questa best practice mostro anche l'esempio di automation abbinato a quello che andrò a fare allora molto semplicemente dal vostro smartphone android ios premete più premette registra evento quindi immaginatevi che io ho appena accolto una persona che mi ha lasciato un biglietto da vista o del quale ho compilato il classico foglio 4 con un biglietto da vista appuntato in alto destra dove mi sono scritto alcune cose e ora cosa vado a fare vado a fare semplicemente il fatto di scegliere l'evento incontro in fiera personalizzabile naturalmente multilingua vado a premere la funzione allega scatta foto in questo caso io vado a scattare la foto del biglietto da vista naturalmente il concetto sarebbe il medesimo se voi andreste a scattare la foto del foglio 4 che avete appena compilato la cosa più importante è che come vedete il sistema mi apre dei campi che sono naturalmente tutti personalizzabili che potrebbero essere a che prodotto interessa tutta una serie di informazioni ma la cosa più banale è se non altro registrare se questo è un lead il prospect il fornitore classico che passa in fiera con l'occasione di proporvi qualcosa è passato un potenziale gente cosa voi scegliete è importante per il sistema perché se scegliete ad esempio che questo è un lead e fate salva dietro le quinte ora si vanno a scatenare delle azioni di automation che vanno a stabilire subito degli incarichi di ad esempio alla ragazza che si trova nel back office della vostra azienda arriva istantaneamente un incarico del tipo inserisci questo contatto in rubrica piuttosto che a voi stessi fra una settimana fissare appuntamento vedete questo è il dato appena inserito qui ci si trovano il fatto che il sistema ha applicato una serie di regole ma qui ci si trova ad esempio due incarichi che io che ho inserito il contatto o tramite le regole d'automation dato direttamente la persona back office cioè inserisci il contatto rubrica e invia il ringraziamento alla visita oggi se anziché scegliere lead avesse ad esempio scelto prospect o viceversa avrei potuto far scatenare degli altri incarichi manda la brochure piuttosto che degli altri incarichi ancora il significato di questa cosa è poter mettere a disposizione immediatamente l'informazione la mia struttura in tempo reale facendo nascere un progetto un processo commerciale senza richiedere alla persona che in mobilità tipicamente più scomoda rispetto a chi è seduto davanti al pc di fare tutta una serie di operazioni che in realtà poi non si fanno perché in fiera quando siano lì davanti una persona alla volta che continua finito uno riparte l'altro finito uno riparte l'altro se ho questa velocità di operare il processo lo innesco se non ho questa velocità di operare naturalmente il processo non lo innesco se nasce subito l'obiezione di dire sì ma io non ho nessuno in azienda che mi può aiutare avrò impostato a livello di back end la regola di automation che assegna a me sta cosa da fare e la farò stasera in albergo però concettualmente o degli incarichi chiari divisivi già per questo è un prospect questo è un lead quindi con i giusti livelli di priorità se è passato un fornitore e non lo scelisco subito nella rubrica non è così prioritario ma comunque mi troverò un incarico ecco un esempio di best practice che potete immediatamente pensare come gestire anche all'interno di un ufficio qualcuno vi dà un biglietto da visita registra evento biglietto da visita e danno incarico alla ragazza del back office alla segretaria che sia di archiviare queste informazioni cioè potete immaginare attorno a questa best practice quante altre ne potete far nascere semplicemente da una foto di un biglietto da visita della foto di un immobile da una foto di un documento che appena avete ricevuto controfermato ci vediamo sul prossimo video